Una serata dedicata a Pietro Germi e al suo capolavoro, sedotta e abbandonata, si è tenuta a Castiglioncello, in Toscana. Alla manifestazione è stato invitato dal comune toscano, tra gli ospiti, anche il saccense Vincenzo Raso, che ha portato il suo documentario dedicato ai retrosceni del film, realizzato in collaborazione con Giuseppe Prestia. L'evento è stato dedicato in particolar modo a Furio Scarpelli, nel centenario della sua nascita, uno degli sceneggiatori di Sedotta e Abbandonata. Sono stato contattato tempo fa dal comune di Castiglioncello per portare il mio documentario. Con l'occasione loro hanno proiettato il film Sedotta e Abbandonata e successivamente hanno proiettato il mio documentario, che circa un anno e mezzo fa lo avevo portato a Venezia a Film Feste. Ti posso dire che la sala era gremita, ho avuto parecchie persone, dopo che hanno visto il documentario fuoriscena, mi hanno fatto diverse domande che io stesso sono rimasto un pochettino stupito, perché tu puoi capire, se un siciliano ti fa qualche domanda, è normale che ti parli della nostra città, conosce la Sicilia, ma uno di Livorno, sai, ho pensato, qua hanno studiato. È stata una manifestazione dedicata in particolar modo ad uno degli sceneggiatori del film? Allora, è stata dedicata a Scarpelli. Scarpelli, per non addetti ai lavori, ha fatto la sceneggiatura di Sedotta e Abbandonata. Infatti erano Agge e Scarpelli. C'era il nipote, ho conosciuto pure Silvia D'Amico, per non addetti ai lavori, Silvia D'Amico è stata l'ultima moglie di Rossellini, una splendida persona matura, direi questo. Questa occasione può essere anche propedeutica ad una collaborazione tra il Comune di Castiglioncello e Sciacca, per quanto riguarda lo Sciacca Film Fest? Certamente, io ho detto sempre, tutto quello che faccio lo faccio sempre per la mia città, per fare conoscere la mia città. Ecco, ho centrato l'obiettivo, perché quando eravamo con il Sindaco, l'assessore, e si parlava di Sciacca, e io ho detto, vedete che a Sciacca c'è un, fanno ogni anno un Sciacca Film Fest, gli hanno raddrizzato le antenne, perché mi hanno detto, possiamo organizzare un gemellaggio tra Sciacca e Castiglioncello? E ho detto, va bene, mi renderò partecipe di portare a Sino Caracappa questo pensiero, se lui è bene favorevole potremmo allacciare questo gemellaggio. Per quanto riguarda il famoso discorso della statua in Piazza Noceto? Ecco, momentaneamente la statua si trova dentro la Badia Grande. Io, dall'ultima mia manifestazione, cioè significa, dalla mia mostra cinematografica dedicata a Pietro Germi, ho preferito lasciare la statua lì dentro, d'accordo con Sino Caracappa, perché probabilmente la metteremo quest'anno nello Sciacca Film Fest, la metteremo a centro del lago Rà della situazione. E poi vediamo, in attesa che il Sindaco mi deve dare una risposta, vedere dove poter allocare questa statua.